Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. E un caro saluto a ciascuno di voi individualmente, personalmente, perché il Signore vi ama non come una massa di persone, vi ama uno per uno. Come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, io conosco le mie pecorelle e le chiamo ciascuna per nome, esse ascoltano la mia voce. E Gesù così ci ama personalmente, uno per uno, non ci ama in massa. Ci ama tutti, ma ciascuno individualmente, personalmente, in modo specifico. E per cui quell'amore che Gesù ha per te è un amore particolare, che conosci tu, è riservato a te e tu devi incontrarti con Lui personalmente nello Spirito Santo. E questo incontro con Gesù avviene personalmente, fratelli, quando noi ci mettiamo in obbedienza alla Sua parola. Cioè ci pieghiamo, mente, cuore, vita, sentimenti, affetti, cultura, arte, mestieri, tutto quello che noi ci pieghiamo a quest'amore, a questa grazia, facciamo entrare il Suo amore dentro di noi, obbedendo alla mia parola. E quando dice Gesù anche nel Vangelo, che ascoltiamo oggi alla Messa, se qualcuno ascolta, se ascolterete queste mie parole, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, liberi con la verità. Che tu sei figlio di Dio, che tu sei un essere unico, irrepetibile. Non ci sarà mai nella storia umana, anche scientificamente è dimostrato, non ci sarà mai nella storia uno che sarà uguale, identico, perfetto all'altro. Possiamo avere delle somiglianze fisiche, ma la coscienza, la persona di ogni essere umano è individuale, personale, irripetibile, e tu così sei amato da Gesù. E allora quando noi obbediamo alla Sua parola, ci mettiamo un atteggiamento non di obbedienza servile, voi sapete che ci sono tre tipi di obbedienza. C'è quella che è chiamata l'obbedienza servile, che è l'obbedienza di chi è sottoposto a delle autorità a fare le cose perché le sono comandate, altrimenti rischia le punizioni. Una volta nel mondo militare questo era molto diffuso, in certi ambienti delle imprenditorie ugualmente. No, questo si chiama obbedienza servile, lo schiavo fa quel che dice il suo padrone, se non rischia grosso perché c'è la paura. No, Dio non vuole questa obbedienza, non sa che farsene. Dio vuole l'obbedienza del cuore. C'è quell'altra obbedienza, l'obbedienza volitiva, che consiste nel volere le cose come se noi stessi l'avessimo scelto. Quando il Vescovo mi mandò che pare come lo scufo, io accettai, ma dentro di me non volevo accettare perché non volevo fare il parco, non l'ho mai voluto fare, per la verità. Non mi ci sono mai sentito, portato, non perché mancassi di affetto, ma di attitudini, perché l'impegno pastolare richiede molta attenzione e quindi richiede anche capacità, energia, via dicendo. Però quando il Vescovo mi dette quell'ordine, sapendo che era volontà di Dio, disse sì, l'accetto come se l'avessi scelto io, non come una cosa imposta. E quindi c'è un secondo grado di obbedienza e poi c'è un terzo grado di obbedienza, che è quello intellettivo, vale a dire io mi convinco che è giusto ciò che il Signore mi ha comandato. Non solo lo faccio come se l'avessi scelto io, ma mi convinco che quello è la cosa giusta. Quindi quando noi ci mettiamo in obbedienza a Gesù, non solo lui non vuole l'obbedienza servile, ma vuole quest'altro tipo di obbedienza. Cioè noi facciamo le cose come se noi stessimo le avessimo volute, ma anche ancora di più sapendo che quello che lui ci chiede è esattamente la cosa giusta per noi. Oggi ci avvento, Signore io l'accetto dalle tue mani, tu hai disposto che questo sia il mio bene oggi. Io l'accetto dalle sue mani, quindi con sottomissione in amore, nell'amore. E' nell'amore che noi scopriamo la presenza di Gesù, questa relazione personale con Gesù. Ecco allora, fratelli, dice Gesù nel Vangelo che ascoltiamo oggi, che chi è figlio, perché è sottomesso all'amore del Padre, rimane sempre in casa. Chi invece ci sta come servo, deve sapere che il servo non rimane sempre in casa. E' un dipendente che può rimanere a lungo, rimanere poco tempo, ma è sempre un dipendente. Il figlio invece rimane sempre in casa. E' ancora di più, quando un servo sbaglia, lo si può estromettere, ma quando sbaglia un figlio, lo si chiude in casa, perché non venga meno dalla famiglia. Il Padre se lo stringe ancora di più, così fa Dio con noi. E' quello che l'Avangelio di Gesù oggi, a questo ci chiama, a questa è relazione personale, che comincia con l'obbedienza alla Sua parola e nel sottometterci a Lui, a far sì che Lui operi nella nostra vita, accettando tutto quello che Lui fa con amore, benevolenza, e facendo agli altri quando Lui fa a noi. Ma questa relazione personale va coltivata voi anche con la pratica, oltre che dell'ascolto della Sua parola, nella pratica della preghiera, che questo rivolge la propria mente, il proprio cuore, la propria vita, alla persona di Gesù. Io mi rivolgo a Dio, anima e corpo, con tutto il mio essere, e affrontare le situazioni ricorrendo sempre a questa relazione. Papa Giovanni Paolo II, in un suo libro autobiografico, raccontava che da giovane, tutte le volte che Lui doveva prendere una decisione, andava in cappella, si straiava per terra davanti al Signore e si abbandonava a Lui. dicendo io non faccio mai niente se prima non mi consegna il Signore. Vuole che Dio entri nella mia vita, agisco insieme a Lui. E questo si chiama fare comunione. L'amore di Dio con noi fa comunione. La comunione di Dio con noi si chiama Spirito Santo. Ecco allora, lo Spirito di Dio è la realtà della presenza di Dio adesso, in questo momento, nella nostra vita. E ancora questa comunione con Gesù Cristo, noi l'alimentiamo con l'amore fraterno, partecipando all'altro, il bene che abbiamo ricevuto. Quando il bene non si partecipa, c'è da alzare un punto interrogativo, ma è autentico quel bene? Il bene, per natura sua, si diffonde, si partecipa, si comunica. è quello che chiede il Signore a noi, partecipare al bene che abbiamo. Tu hai ricevuto la grazia, della consolazione, della pace. Sta vicino a chi è in difficoltà. Va all'incontro, senza giudicarlo. Va all'incontro e cerchi di guardare in che modo l'altro possa essere aiutato, per stare bene, per avvicinarsi a Dio, per cogliere gli obiettivi giusti della propria vita. Il bene, per natura sua, si alimenta, si alimenta con la partecipazione. E a questo noi accompagniamo anche gesti di mortificazione. Mortificare vuol dire dare la morte a qualcosa. Invece l'orgoglio. Mortificarmi vuol dire uccidere il mio orgoglio. Quindi, se faccio qualche gesto di penitenza, la cosa in sé stessa vale a poco. San Paolo, nella lettera ai Colossesi, dice queste pratiche servono solo per soddisfare la carne, cioè il proprio orgoglio, per sentirsi bravo. Quando sono fatti fino a sé stessi? No, noi, se facciamo delle piccole rinunce, o grosse rinunce, o pre di carità, non è fino a sé stesso, ma per aprirci a Dio, per far morire noi quella parte di noi stessi che appartiene alla terra. Come dice l'Apostolo, siamo mortificati in voi quella parte di voi stessi che appartiene alla terra, ira, passioni, idolatria, tutte queste cose, buttatele via. Idolatria. Una volta che a Moscufa una ragazza propose di regalarle un poster di Gesù misericordioso e lei mi rispose ma se si trattasse del tale attore, se non nomino, con tutto il cuore, quello sì, è il mio idolo. Tanti hanno il lidero dei calciatori, degli sportivi, gente di spettacolo, cantanti. No, noi dobbiamo amare tutti, ma non essere idolatri di nessuno. si adora soltanto Dio, a lui solo si presta culto. E lo troviamo nella prima lettura di oggi nel sacrificio dei tre giovani da parte del re Nabucodonosor che li voleva obbligare ad adorare la sua statua e loro risposero no, noi adoriamo soltanto il Signore. Potrebbe anche non liberarci dal fuoco, non ci importa, ma noi non ci sottometteremo mai ad adorare altri dei. Adorare la divinità significa sottomettersi alla divinità. Quindi se uno ha degli idoli, vuol dire che è schiavo di quegli idoli, non è libero. Mentre l'amore di Gesù, che non è una idolatria, ci rende liberi. E San Giovanni, abbiamo visto tante volte, ci dice appunto che noi manifestiamo la nostra libertà quando siamo in grado di amare, di andare incontro agli altri col cuore. Allora marito e moglie tendono a fondere le loro anime in un cuor solo, un'anima sola. Ognuno cerca il bene dell'altro, non la propria passione da sfocare con l'altro. Cerca il bene dell'altro e se c'è un dono profondo sarà per fondersi nella vita dell'altro, come versare il proprio amore nella vita dell'altra persona, ma non per asservire l'altro a un bisogno personale. Ecco la libertà che il Signore ci dà, fratelli. E voi siete liberi. In Gesù siete stati fatti liberi. Quindi non lasciatevi più imporre, dice San Paolo, ai Galeti, tutte le leggi, non fare questo, non fare quell'altro, tutte cose che ci rendono schiavi. Gesù è la libertà. E questa libertà si vede nella gioia, nella pace, nell'amore. E allora, cari fratelli, questa Pasqua che sta avvicinando si è per tutti noi una riscoperta di questo dono di grazia. E per noi la grazia si chiama Gesù. Innamoratevi di Lui, buttatevi nelle sue braccia, sottomettetevi a Lui con gioia, con entusiasmo. E quando vi mettete in adorazione ditevi meno cose che potete. Ascoltate invece quello che Lui vuol suggerire al vostro cuore e lasciatevi amare da Lui. Signore, questo noi ti chiediamo. Donaci di celebrare questa Pasqua rigenerati in Te, rinnovati in Te, uniti a Te nella Tua passione, nella Tua morte, nella Tua risurrezione per essere creature nuove, non sottomessi a delle idolatrie, ma che vivono nella piena libertà. Tu sei la nostra libertà. Gesù, Tu sei la nostra libertà. Perché Tu sei il Signore e regni su di noi con l'amore, liberandoci, scegliendoci, arricchendoci sempre più di amore, di potenza e di grazia. Ti preghiamo di benedire quanti stanno operando in questi giorni in favore dei fratelli ammalati. Sostiene il Signore, dirigi con la Tua sapienza, dona loro forza e potenza e Ti preghiamo di guarire quanti sono stati contagiati, quanti sono in pericolo di vita. Manifesta loro questo amore, fa trionfare questo amore. A Te, Gesù, la loda e la gloria, l'onore e la potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E Tu, Vergine Santissima, che sia una cosa solo col Figlio Tuo, Gesù Cristo, prendici per mano e donici di incontrare Gesù Tuo Figlio come l'hai incontrato Tu, nella pienezza della fede, nell'obbedienza alla fede, nella sottomissione al Suo amore. Amen. Cari fratelli, siate tutti benedetti.